Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipilì un chilometro di coda tra la diramazione per Pisa e Cascina in direzione Pisa per Lavori. Fare attenzione poi per personale su strada segnalato allo svincolo di Empoli. In A12 incidente tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Livorno coinvolte tre auto. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Monteriggioni e Siena in direzione Siena. Sulla statale Trebis-Tiberina scambio di carreggiata per lavori tra Madonnuccia-Poggiolino e Santo Stefano Sud in direzione Nord. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto senso unico alternato tra l'incrocio del Valico del Cerreto e Casina. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!